Nella serata di venerdì scorso, una pattuglia dell'aliquota radiomobile della compagnia carabinieri di Ciro Marino, unitamente personale della Polstrada di Crotone e della Capi Teneria di Porto, hanno controllato un'autovettura di proprietà di un uomo, classe 1985, che alla vista dei carabinieri aveva mostrato chiare intenzioni di erudere il controllo. Immediatamente raggiunto dal personale operante, il soggetto teneva sin da subito un comportamento evidentemente ed inspiegabilmente agitato, dunque si procedeva ad una più accurata ispezione del veicolo. Nella circostanza del controllo venivano rinvenuti, occultati all'interno del bagagliaio posteriore, 80 cassette in polisterolo contenente 460 kg di prodotti tici alimentari, nello specifico nome Lave di Sarda. Immediatamente accompagnato presso gli uffici della Capi Teneria di Porto, il soggetto veniva sanzionato per le violazioni amministrative relative alla commercializzazione di prodotto ittico, sottodimensionato nonché privo della relativa etichettatura, per un ammontare complessivo di 75.000 euro. Il prodotto sequestrato è stato dichiarato edibile dell'ASP e quindi devoluto in beneficenza. E i carabinieri della compagnia di Petila Policastro, unitamente al personale dello squadrone di Portato Cacciatori Carabinieri Calabria e di Unità Cinofila Antidroga del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone, hanno tratto in arresto un 53enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni, ricettazione e resistenza pubblico ufficiale. I militari, dopo aver perquisito l'abitazione in altri luoghi di sua proprietà, hanno rinvenuto a 142 grammi di cocaina, 20 grammi di marijuana, 4 bilancini di precisioni, varie munizioni e un fucile che era stato rubato nel nord Italia nell'anno 2012. Una somma di denaro contante di circa 3.650 euro in quanto ritenuto provento di attività di spaccio di stupefacenti. Durante le fasi dell'arresto, l'uomo ha tentato di darsi alla fuga, ma dopo un breve inseguimento a piedi, è stato bloccato dai carabinieri. Anche per il figlio 22enne che era intervenuto al fine di ostacolare i militari a far guadagnare la fuga del padre, sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale. Nella circostanza è stata denunciata all'autorità giudiziaria anche la moglie, 47enne per resistenza, ed un altro suo congiunto, poiché a seguito di perquisizione è stata trovata in possesso di 5 grammi di cocaina, 20 grammi di marijuana, due confezioni di mannitolo e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.